Attimi di grande paura stamani all'alba all'hotel Hermitage di Silvio Marina. Intorno alle ore 6 si è sviluppato un incendio nei semi interrati da chiarire i motivi che hanno scatenato le fiamme. Tutti i clienti, circa 300, sono stati svegliati e fatti evacuare dalla struttura imponente, da 12 piani e 140 camere. Subito dopo l'allarme sul posto sono giunti i vigili del fuoco, dei comandi di Pescara e Teramo e del distaccamento di Roseto degli Abruzzi che hanno provveduto a domare le fiamme. L'allarme è cessato intorno alle 8 e 30 quando l'incendio è stato spento e sono iniziate le operazioni di bonifica del semi interrato dove sono depositati materiali di pulizia e soprattutto la biancheria dei circuiti sporco e pulito di tutto l'albergo. Per fortuna non ci sono state conseguenze che potevano essere ben peggiori proprio in un periodo di grande affollamento nel mezzo della stagione balneare con la struttura ricettiva piena di turisti, per loro la possibilità di rientrare al completamento della bonifica. Sul posto sono intervenuti anche polizia, carabinieri e polizia municipale, presente anche il sindaco Andrea Scordella. Sicuramente diciamo un brutto risveglio ma tutto sotto controllo, per fortuna è andato tutto bene, solo un piccolo incendio, un principio di incendio nel locale semi interrato, è stato circoscritto immediatamente e per fortuna non ci sono né danni strutturali né danni alle persone, dunque diciamo la struttura completamente e pienamente agibile, già stanno ripristinando diciamo le aree, dunque solo un grande spavento per fortuna. Tutti i clienti sono stati evacuati nella mattinata però riprenderanno il loro posto? Assolutamente sì, la struttura è efficiente, il servizio antincendio è scattato immediatamente, dunque è stato subito circoscritto, sono nei locali semi interrati che tra l'altro sono anche isolati da tutto il resto della struttura, dunque veramente nulla di rilevante da segnalare, tutti gli ospiti sono stati già fatti risalire nelle stanze, diciamo, è tutto nella normalità.